5, 4, 3, 2, 1, 0 Chi c'è salvato? 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ahem Tu devi saltare perchè manca un secondo 1, 0 Ok Deflori slava 5, 4, 3, 2, 1, 0 Dai vabbè ci sei salvato Slava 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ok bravo 5, 4, 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 0 E Francesco Si è bruciato Si è bruciato Deflori slava 5, 4, 3, 2, 1 Bravo Deflori slava 5, 4, 3, 2, 1 Bravo Bravo Deflori slava 5, 4, 3, 2, 1 Già hai fatto? Ok Se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi al canale, mettete like e condividete. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! 6 5 6 7